Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente E poi, già come vedi, sto pensando a te, Eros Ciao Eros, come stai? Tutto bene? Hai notato? Ho cantato la canzone senza imitarti, proprio così, dal cuore Stai bene? Sei tornato? Finalmente, ci mancavi, stai sempre all'estero, stai sempre in giro Come giusto che sia, perché tu sei uno dei più grandi ambasciatori della musica italiana all'estero Io ti voglio bene, come ci chiamiamo noi nell'intimità quando ci mandiamo i messaggi? A frate, ciao frate, e io ti dico, ciao frate, state bene, te voglio bene, ciao Mara Ciao, ormai mi hanno chiuso qua dentro, non esco più, sto chiuso qua dentro Nel Plexigas, siamo una trota, nell'acquario, vabbè, ciao Grazie a Rosario, un bacio a Rosario, buon Natale Grazie Rossi, venga a trovare